Poi di cose assurde su questa Lamborghini Urus Lo speaker dell'impianto audio che esce dalla plancia Per accenderla si solleva la protezione, come sugli aerei Per mettere la retro si tira la leva, ma per mettere la marcia avanti si tira la paletta Su un'auto così i dettagli fanno la differenza e anche il tappo benzina è in carbonio con la scritta Lamborghini